Posso partire da Lazio-Leccio? Pareggiamo in casa con Lecce, 2-2 Stiamo in vantaggio che potete essere fatto fare due gol ridicoli Ridicoli, perché sono due gol ridicoli E andiamo in svantaggio Con Lecce in casa Quando tu devi lottare per andare in Champions Che tu adesso non ci vai Perché tu adesso hai perso punti pure con Lecce in casa Ma adesso vai contro l'Udinese Poi con la Cremonese E poi con l'Empoli Ma io adesso ho paura dell'Inter e del Milan Il problema è quello che non dovevi perdere 6 partiti Questi 3 punti erano vitali Erano vitali, capite che erano vitali Questi 3 cazzo di punti E lei buttare al cesso una fottuta volta Non è possibile, raga Non è possibile Posso capire perdere con Milano e Clinton Ma non in quel modo Ma non puoi perdere punti con Lecce in casa Non puoi perdere punti con queste squadre Sono unammissibili ste partite Che tu entri in campo Ma nel secondo tempo molle Ma poi tu sei un gran coglione Marcos Antonio mio Che ti ho detto che bravo Che non hai fatto bene Ma so già la tua volta E commetteremo il stesso errore Ma perché? Ma perché? A fine primo tempo Tu non devi piaccare il gol dell'1 pari Abbiamo preso un gol dell'1-1 Da Polli Non puoi piaccare il gol al minuto All'ultimo secondo del primo tempo Non li puoi prendere Perché sei in vantaggio Tu la squadra matura La gestisci Le spazze via E tieni i sfogliatori in vantaggio Non sono un 1-1 per Dio No! Non siamo subiti con gol L'abbiamo subito oggi Nel primo tempo Poi il secondo Grave perché Nasce da una palla persa di Luisa Alberto Da una palla persa di Luisa Alberto Porca puttana troia Ma come si fa? Io non 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 trovo le parole Non ne trovo le parole Mi rincampo le capellegrini Luca Pellegrini Migliore in campo È entrato con una voglia matta E questo giocatore Va fatto giocare Noi sai che non fa un cazzo Pellegrini In mezz'ora Ti ha dimostrato Più di 6 Tutto il campionato Non ci posso credere Questa partita Non la dovevi Non la dovevi pareggiare Ma è come se avessi perso Perché hai perso punti Hai perso punti Non toccaniamo Sperare che mine e l'Inter Facciano dei passi falsi Con Sassuolo e con lo Spezia Ma come Ma dove andiamo così? Dove cazzo andiamo? Ma porco cane oh Porco cane oh Adesso Affronto Utilise Cremonete E Empoli Tre vittorie devi fare Tre Io lo sapevo Non lo sentivo Non lo sentivo Che ci andava male Non lo sentivo Perché Il rigore Scandaloso Ma il problema è che Non puoi pareggiare in quel modo Non lo capisco Ma come si fa A pareggiare in quel modo? Ma manco Il Bari in Serie B Subisce il gol all'ultimo minuto Nel primo tempo Manco Erbari Subisce il gol all'ultimo minuto Manco Erbari Manco Manco la Casertana Subisce il gol all'ultimo minuto Nel primo tempo Davanti a 45.000 spettatori Scenni in campo Nel secondo tempo In questa fottuta maniera Da più alla pizzo in faccia Perché anche io Gioco a pallone Io se fossi stato Se avessi giocato oggi Avrei sputato il sangue All'inizio del secondo tempo Subito Non dopo il 2 a 1 Così è troppo facile Sono avvelenato Perché non puoi perdere sti punti Non puoi perdere E manco ci va in Champions Vorigo oggi Manco ci va in Champions Cataldi ci sta mancando come l'aria Cataldi ci sta mancando come l'aria Io sono sconcertato Sono sconcertato Ma come si fa Ma come si fa A perdere punti di costa A squadre Che stanno Che questa squadra Ha perso col Verona Una squadra Era capricciante L'ho vista L'andata la partita Non hanno fatto Tre passaggi Di fila E noi ci abbiamo pareggiato In casa Ma dove possiamo andare Così? Ma dove andiamo? Dove cazzo andiamo? Vaffanculo 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 Un punto abbiamo fatto Tu due Dove prende Cioè tre Un punto Fatto Mamma mia Se vincono Quelle roba Lì Che Vabbè Ma chi teme In Champions Guarda che Famo Eh Bene Buona serata Vaffanculo Vaffanculo